Forte contrarietà le proposte presentate da alcuni consiglieri regionali all'esame della prima commissione consigliare di applicare ai lavoratori dell'Agenzia Forestas un nuovo contratto, non più quello dei forestali ma quello dei dipendenti regionali. I sindacati Flai CGL, Fai Cisle e Willa Will hanno inviato contro questa ipotesi un documento al Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, a Capigruppo, al Presidente della Regione Francesco Pigliaru e agli Assessori degli Affari Generali Filippo Spano e dell'Ambiente Donatella Spano. I segretari Anarita Podeso della Flai, Bruno Olivieri della Flai e Gaia Garau della Willa nella missiva sottolineano quanto sia facile ma anche pericoloso alimentare aspettative, soprattutto quando queste poggiano su ragioni vere di malessere per tante persone che però richiedono soluzioni concrete e non le usorie. Per i sindacati la soluzione prospettata rischia di rivelarsi peggio del male che si vorrebbe curare. Un cambio di contratto di lavoro fondato sul presupposto che nell'Agenzia Forestas si svolga un'attività differente rispetto a quella principale della sistemazione idraulico-forestale del territorio e della tutela e valorizzazione dell'ambiente dentro o fuori dei compendi forestali comporta necessariamente e rilevano i segretari dei sindacati il rischio della perdita della previdenza e del collocamento agricolo. L'attuale contratto per i sindacati è quello giusto, più appropriato di quello del personale amministrativo della Regione e di altri suoi enti strumentali. Forestas svolge la sua attività istituzionale principale nella sistemazione idraulico-forestale del territorio, sottolineano i sindacati, attività per le quali esiste un contratto nazionale di riferimento firmato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. CGL e Cisle Willi concludono la nota e chiedono di essere convocati dal Consiglio regionale per discutere in maniera approfondita del problema con la prima commissione.